E' stato ricordato con un convegno a Palazzo Lascaris, a 38 anni della scomparsa, Giorgio Lapira, siciliano, padre costituente, a lungo sindaco di Firenze. Organizzato e patrocinato dal Comitato Resistenza, con ragione Piemonte, città di Torino e comune di Pozzallo, Ragusa, il convegno è stato realizzato con l'Associazione di Volontariato Politica. La Pira è sicuramente una figura eclettica, costituente, sindaco, sottosegretario del Ministero del Lavoro, ma soprattutto un costruttore di ponti e di relazioni tra il locale e l'internazionale. Credo che la sua grande lezione sia il superamento dei settarismi e l'idea di una civiltà sempre pronta alla costruzione, al dialogo in modo creativo. Oggi abbiamo bisogno di maestri o di guide o di personalità che hanno inciso profondamente nel tessuto civile e religioso del nostro paese. E uno di questi è sicuramente Giorgio Lapira.